E' un'amica pasta, bravo! Una gastronomia specialità emiliana Pasta fresca, cappelletti, tortelli, tagliatelle Ciughi pronti, ciughi pronti, ciughi pronti Ormigiano reggiano E' un'amica 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Minchia, questa mosca mi sta mangiando i buff Avrei mangiato il formaggio Minchia, mandiamo la Sky Armare un'era Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.